Ormai ci siamo. Zaini, cartelle, diari e astucci. È iniziata già da qualche giorno la caccia agli zainetti all'ultima moda, agli astucci del supereroe del momento, o ancora diari colorati e griffati. Sono numerosi infatti i giovani delle diverse fasce d'età che a giorni udiranno il suono della campanella. Ma purtroppo la crisi è sempre dietro l'angolo, anche nel settore scuola, dato che le famiglie devono sborsare per l'istruzione dei propri figli delle cifre che variano a seconda dell'età. Per un ragazzo infatti che sta per iniziare la scuola media, il costo che i genitori devono affrontare per i libri e tutto l'occorrente ammonta circa 500 euro, mentre per un bambino di prima elementare la media è di circa 200 euro, visto che i testi sono offerti dal provveditorato di Agrigento. Beh, compreso, diciamo, materiale anche come zaini, eccetera, e libri sui 500 euro sicuramente. Quindi compreso di zaino, carpette, libri vari, tutto l'occorrente? La prima media sì, tutto l'occorrente è un 500 euro. C'è stato un rincaro del costo libri, dei libri di testo di quest'anno? Ma no, un rincaro vero e proprio no, piccoli aumenti, linea di massimo sono rimasti come l'anno precedente. E per quanto riguarda i bambini di scuola elementare, che costi devono affrontare i genitori? Ma i bambini di elementare, parliamo fra zaini e oggi diciamo tutto l'occorrente scolastico, dai 150 a 200 euro sicuramente, perché giustamente secondo le scuole i bambini devono un pochettino avere l'occorrente per affrontare l'anno scolastico. Nonostante la crisi i ragazzi cercano il marchio, cercano la moda negli zainetti, negli astuce e in tutto il resto? Sì, li cercano, però vogliono sempre risparmiare, perché in effetti è questo. La marca, la pubblicità in genere si sa, è attratta dai bambini, specialmente dai bambini, ma vedo la difficoltà che hanno i genitori di essere potuto dire un po' il discorso che i bambini possono comprarlo oppure a livello scolastico, perché giustamente il costo è alto e allora botte denono e c'è chi riesce ancora a affrontare queste spese e c'è chi chiede no, purtroppo. E si sa a questo punto, dato che ormai l'apertura della scuola è vicina, quale sarà la percentuale che dovrà comunque essere pagata invece dall'amministrazione comunale per quanto riguarda l'aiuto all'acquisto dei libri ai genitori e alle famiglie? Noi non sappiamo niente, stiamo lavorando nel buio, ormai stiamo lavorando come se purtroppo non ci sarà più il buono libro, perché è così come è stato l'anno scorso, che siamo state penalizzate anche noi, non solo i genitori, anche noi, e quest'anno si sta lavorando con l'ottica di dire che non ci sarà il buono libro, e i genitori queste ne stanno risentendo, perché sono famiglie che purtroppo non possono mandare i bambini a scuola. Nuvola nera purtroppo per le famiglie in attesa del buono scolastico, visto che l'amministrazione comunale di Licata, a quanto pare, non darà il sostegno economico che porterebbe un sospiro di sollievo alle famiglie.